Ma cos'era Marble? Come si chiamava? Quella sfera... oppure Super Monkey Ball in versione moderna? Non c'è nessuna palla che praticamente ruota per sempre. Eh sì, questo. No, no. Non mi fido. Che casino. È tutto... Grazie per l'arrivamento. Tu l'allarme Ok qua No 49 dai che ci siamo quasi Per poi prendere quell'altra L'altra spilla Che però abbiamo visto che in realtà Oh tini quella La grande spuzzata Devo salire là Eh sì perché bisogna Abbassare di nuovo la strada Qua Eppare che bisogna far la cadiera Come back later Our elevator needs a moment Going up please We are having some problems Ok We do it's a private matter Oh sorry Oh sorry Ok Vediamo se ci fa Darsi con nulla Forse sarà una scorciatoia Che si apre dopo Non lo so Eh sono riusciti a mettere Sono riusciti a mettere anche questa meccanica qua Quello in marble Marble bud Si chiamava Si Ehm Folia di Come si chiama Di marmo Folia di marmo Non sarebbe Vediamo Poi non è niente di Come non detto Stavo dicendo Non è niente Di particolarmente difficoltoso Insomma Adesso forse la cosa cambia Vediamo Bele anche i colori Ed si aiuta Apparente se cadiamo Salve per risalire Spero Ecco Ecco Dai Oh Che c'è un mezzo Il cervello Non ci credo Ma non salti un tubo Oh no Oh no E' un attacco! Ho visto che potessi farlo! Dai? La prossima volta non potrei essere qui per te Buono Tra l'altro ci ha rifullato, ottimo Poi qua Possiamo andarci con la sfera Pista romantica Ma le cose vecchie con le ventose che si trovano come giocate per i bambini 39 e 52 abbiamo così presi E' mancato uno? Forse... Ah si quello che era il salto impossibile in mezzo Oh... Credo che questa romantica di Lucrezia è più vero che ho capito Un bel colore 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 Sì Oh! You and... You loved her? Her name is Lucretia. But I called her Lucy. And even from that first date in that grimy bowling alley, I knew. Knew that it was too good to last forever? Hey, all relationships end one way or another. I just didn't think it would end so badly. Hey, cheer up. Even gutter balls return. Eventually. Rasputin. Agent Cruller, how do you feel? I've done a terrible thing. And so have you. But we just wanted to undo what Maligula did to you. Maligula didn't do this to me. That's the first thing I've learned in here. The rest, you're gonna have to see for yourself. Mi hanno fatto un errore. Cioè, ripristinagli da... Preachio ed insieme. Partita perfetta. Ford, what is it? See for yourself. Hmm. Chimmy dear. Let's do this. Vai attine Vai, sta accelerando però Agent Cruller, sono più sicuro che voglio vedere questo Oh no, credo che non voglio vedere questo Cosa? 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 Ford, quale è il problema con la trattamento di Deep Six? Ho fatto ciò che ho dovuto fare. Ho amato lei, dopo tutto. Poi, cosa? Nel giorno, quando ti fai in amore, lo comprendi. Mi dà l'impressione che qua forse hanno spesso di walking simulator, sì. Mentre discendiamo, vediamo dei pezzi di storia. Adesso deve andare là. Per modo di raccontarla, comunque. Andiamo. Ford, cosa succede qui? Cosa vuoi vedere? Cosa vuoi che vuoi vedere? Non potrei lasciare la scuola. Cosa è una scuola per il mondo. Anche se fosse la scuola per il mondo. Lucrezia? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi. Cosa vuoi. Cosa vuoi. Non ancora più. Finché la mente era frammentata di Ford, Lucrezia era a sua volta persa nella sua mente. Avendo risistemato la sua mente, magari Lucrezia si può ritornare. Cioè, ha detto che abbiamo fatto qualcosa di brutto. C'è un motivo? Chi c'è il movie invisibile? Vabbè. Perina qua com'è? Sembra che stesse dicendo una cosa del genere. No, guarda, 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 guarda cosa c'è sulla testa di quello. No. Non si può. Non si può interrarci mentre scendiamo, non è un problema. Cavolo, per che me l'ho mancato? Tutte e due me l'ho mancato. Infatti, questa qua si può prendere. Forse anche adesso. Vediamo. io guardando lui non ho guardato bene guardate ma sono spariti guardate Ford, quello che ho dovuto sapere, scendola fuori ho dovuto scendere dal mondo perché non lo scenderebbe e ho dovuto scendere dal mio perché non lo scenderebbe dove? dove lo scenderebbe? lei era famiglia quindi ha voluto spaventare la sua memoria non credo che qua si possa è uno solo pronto B per vedere se magari scendeva più velocemente invece no, sta rischiava di rischiava di saltare la scena il B ok ho pensato che ci vorrebbe con quei colori qua ti fa venire in mente un po' l'ottocento eccetera al periodo anche gotico no ci vorrebbe cavolo dei giochi ambientati in quelle in quell'epoca lì ma non ci sono non è un'epoca che può cosa può somigliare all'epoca vittoriana magari dei giochi su shallow cons insomma sul sull'epoca il 1800 no? 1800 inglese io vorrei giochi su vampiri così ma alla fine mi piacerebbe un Vampir 2 che l'ha fatto ieri stavo guardando il gioco l'aveva fatto la dot not che poi si è data ai Life is Strange però mi piacerebbe un Vampir 2 che migliori il primo ma sono i tuoi grandparenti Laszlo e Morona sono trattati nel Valermo Dam ricordi? cosa? Grandpa Laszlo è morto là ma la mamma è arrivata e è venuto a vivere con il mio padre no Raz non l'ha fatto Ford io solo l'ho visto oggi no non l'ha fatto cosa? non è nona? o non esiste nemmeno? qui si è aperto qualcosa se neanche qui c'è qualcosa sarebbe carino se avessero inventato un mistero nona magari è Lucy o Lucy travestita con Maligula? isolare e neutralizzare la parte della sua psiche che era un murdorio? problematica e ho avuto la mia Lucy ok questa è la stratornia oh questo ce l'abbiamo un uomini di alto sì 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 questa sarà la struttura mi mettono la testa in mezzo e la scavano stessa che aveva maledetto poi tra l'altro parente di chi è maledetto e mori a seppolta che è una struttura e ora i miei ricordi che non avranno, e non c'è nulla di come reagire. Quindi, potrebbero provare a matare. Se Lucretia è attaccata, se si senti la necessità di proteggere, quella spirito scurita potrebbe riuscire dentro di lei. La Melligula potrebbe realmente riuscire ancora. La Melligula potrebbe riuscire, Rasputin. Io ero, ho fatto un errore. Ma abbiamo bisogno di riuscire con questo, dopo aver guardato questa situazione incredibili. Non c'è. Non c'è. Probabilmente avvicinò ancora nella città. E' continua a fare questo. Io vedo dove è andata. Colpo di scena, insomma. E in quel buco lì. C'è un luogo profondo in questa città, protettato da intrusione da dispositivi psiche, trappi e illusioni. Io credo che Lucie sta cercando di riuscire, cercando di andare a casa. Ricordi, più tardi, missione prima. Ora sticci, io vi farò vedere come passare. Siamo già entrati? Ma torniamo indietro? Non posso andare ora, hanno bisogno della mia scuola. C'è un buono, una transizione un po'... Bella comunque. ... ... ... ... ... ... Ti mostrerò come... Pum! Siamo già lì. Una sequenza animata, dico. ... 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 Molto storia qui, voglio dire, questo è dove hai assemblato il team che sarebbero i Psychonauti. Questo è dove hai scoperto il Citanium, dove Otto ha fatto i primi dispositivi psicoattivi, dove Cassiopeia ha scritto i libri, dove Helmet Fulbert ha lavorato la sua psichotica, dove Bob Zanotto e Compton Bull pioneered la comunicazione con planti e animali, e dove, dove, voglio dire, questo è dove all'inizio. No Raz, questo è dove all'inizio. Immagino che lui si riferisca al fumetti che ha letto, che alla fine più che fumetti sono una storia, la storia è vera, sembra. Ok, qui abbiamo una nuova mappa. Corrisponenza è Cruele, tomba dello squalo Fago, Strike City si chiama quella di prima. Vediamo un attimo. C'è da saltare a metà, se no abbiamo preso tutto, tranne in realtà abbiamo l'etichetta di un bagaglio, ma non abbiamo preso il bagaglio, vabbè. Nel momento ci torniamo, ma non lo so, vediamo adesso se ci torneremo indietro la, non lo so. 27 carte FC, 2 casse di rifornimenti, 2 chiavi, 2 badge. Casa su un fiume di Nona, c'è quella lì in mezzo. �가 giusto è giusti stessa? Promisedi come. Questa è giusto, non lo so. Questa è giusta. Questa è giusta, non lo so. Ah, è altissima. Passiamo a andar di là. E qua. come no perché non hai saltato perché non ti sei attaccato non si attacca ora mi farei partire l'agua vabbè però una carta non è che scendono questi ma io ci stavo pensando ossia che non si attacca no devo solo saltare sulla corda una volta così tanto come sfida ok ... ... ... ... Sì